Uomini e donne. In arrivo lo speciale in prima serata. Anticipazioni. Stando ai recenti rumors, presto i fan di Uomini e Donne potrebbero ricevere una bella sorpresa. A quanto pare, infatti, tra qualche settimana su Canale 5, in prima serata, potrebbe andare in onda uno speciale simile a quello delle Olimpiadi delativi, con protagoniste come sempre le coppie formate se è l'interno del Trono Classico e del Trono Verdi Uomini e Donne. Resta tuttavia qualche dubbio. Prima parte. Già fissata la registrazione della puntata speciale. Di certo pare che le coppie partecipanti sono già state contattate, e che le registrazioni cominceranno a breve, durando all'incirca una settimana, per poi essere montate proprio come successo in occasione delle Olimpiadi della televisione. Anche in questo caso, pare che la messa in onda sia fissata per un sabato. Oltre alle coppie più amate del Trono Classico tra tutte spiccano Andrea Damante e Giulia Delellis, ma anche le più recenti come Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nonché Clarissa Marchese e Federico Gregucci ci saranno i seguitissimi over. In primis Gemma Galgani, Marco Firpo e Giorgio Manetti. Seconda parte. La messa in onda potrebbe slittare a settembre. Del resto, come dimostrato tra l'altro nelle ultime registrazioni, la redazione di Uomini e Donne ha intenzione di insistere ancora a lungo sul triangolo Gemma Galgani, Marco Firpo e Giorgio Manetti, che assicura sempre grosse soddisfazioni in termini di share e appassiona moltissimo i telespettatori di mezza età. Ancora non si conosce il contenuto di questa puntata speciale, nella data esatta della messa in onda. Sebbene sia probabile vederla in TV appena prima dell'inizio di Temptation, Island, 2017. Infatti, c'è anche la possibilità che slitti a settembre, poco prima l'inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, anche se i fan ovviamente non vorrebbero aspettare un giorno in più. Alla prossima con altre anticipazioni su Uomini e Donne di Maria De Filippi e i suoi personaggi più amati.